Signori buongiorno e bentornati sul canale del MasterKai, io sono il MasterKai e il vostro ospite su questo canale. Cominciamo con questa settimana la trattazione vera e propria dell'argomento di quest'anno cioè il world building e cominciamo con rispondere alla domanda più frequente che ci si fa quando ci si va a occupare della costruzione di un mondo. E' meglio procedere dal piccolo al grande o dal grande al piccolo? E' meglio partire con una mappa dettagliatissima di un intero continente o sviluppare solo il piccolo villaggio da cui partono gli avventurieri e poi procedere mano a mano che si spostano? In realtà dipende molto da quello che dovete fare. In questo video io vi spiegherò il metodo che normalmente utilizzo io quando devo mettermi a scrivere una nuova ambientazione ma che sostanzialmente prevede di fare entrambe le cose contemporaneamente. Cominciamo chiarendo una cosa che apparentemente ovvia ma in realtà non lo è affatto. Che cosa si intende quando si parla di piccolo e quando si parla di grande? Tutto dipende da quale sarà il tema e l'estensione di una quest. Una quest fantascientifica in cui i giocatori si muovono da un pianeta all'altro potrebbe avere come massima estensione quella dell'intero universo conosciuto o anche solo di una singola galassia mentre la sua unità fondamentale, la parte più piccola magari è un intero pianeta su cui vivono comunque miliardi di persone. Al contrario magari una quest urbana investigativa non prevederà mai che i giocatori escano dai confini della città o magari dai confini di un determinato quartiere di una città ma avrà dei livelli minimi di dettaglio di un singolo palazzo o anche solo magari la singola stanza all'interno del palazzo dovrà essere sviluppata nella maniera più complessa possibile. Ovviamente non è che al di là di questo non bisognerà pensare a nulla ma avere fin dall'inizio chiara l'idea di quali saranno i limiti dell'ambientazione sarà utile per andare a organizzare quanti e quali elementi dovranno effettivamente essere sviluppati. Se la vostra quest di fantascienza si svolge tutta all'interno di un unico sistema planetario sapete già che per quell'ambientazione dovrete sviluppare una serie di pianeti, qualche asteroide ma cosa ci sia al di là di questo sistema solare in realtà può essere lasciato vago e definito perché non è di fondamentale importanza per la quest. Per adesso diciamo che stiamo parlando di estensione geografica ma questo discorso vale per qualsiasi altro elemento della quest, quali siano le organizzazioni all'interno di questa ambientazione, quali siano le culture all'interno di questa ambientazione. Una quest che preveda che i giocatori si spostino tra varie nazioni o tra vari pianeti dovrà avere diverse culture per ogni posto che i giocatori visitano. Una quest all'interno della stessa città potrebbe avere culture diverse in base al quartiere che i giocatori visitano. Ricordate anche che tutto quello che non viene sviluppato immediatamente nella quest non è buttato, anzi lasciare delle zone grigie dove non volete ancora andare a toccare che siano zone geografiche, che siano zone morali, può essere utile perché lì potranno essere sviluppate cose in seguito in base a come la quest deciderà di procedere. Al di là di tutto potrebbero essere zone che verranno sviluppate in una quest successiva, in una campagna successiva, che se invece avreste definito inizialmente anche se non avevate bisogno e le avevate magari già introdotte ai giocatori, ora non sarete in grado di fare cambiamenti che vi tornino più utili per la quest che effettivamente volete fare senza dover fare delle retcon che sono sempre possibili ma molto spesso fanno storcere il naso ai giocatori. Bene, una volta stabiliti quali saranno fondamentalmente il limite superiore, il limite inferiore dell'ambientazione, possiamo cominciare con il lavoro di world building vero e proprio. E qui si ritorna alla domanda iniziale, è meglio partire dal grande o è meglio partire dal piccolo? Come ho detto in realtà io personalmente cerco di fare entrambe le cose contemporaneamente in modo che si possano influenzare a vicenda, tenendo sempre presente come binario per sapere se sto lavorando bene o male, quale dovrà essere il tema o i temi fondamentali della quest per cui questa ambientazione sta venendo scritta. Riprendiamo l'esempio che abbiamo fatto prima, quello del sistema solare e diciamo che questa ambientazione sta venendo scritta per una campagna che abbia come suo tema l'esplorazione spaziale, che è qualcosa di abbastanza tipico, abbastanza canonico nella fantascienza. A questo punto il macroelemento che ci servirà, la parte grande, sarà che cosa i giocatori devono esplorare e il microelemento sarà il modo in cui i giocatori devono esplorarlo. Quello che i giocatori devono esplorare è ovvio il sistema solare, quello sarà il nostro macroelemento. Quindi per questo sistema solare dovremmo sviluppare una stella, magari una serie di pianeti, più qualche altro elemento, fascia di asteroidi, pianeta gigante gassoso. Per questi elementi non serve neanche avere chissà quale ispirazione, basta guardatevi un video di youtube che parla di astronomia e probabilmente tutto quello che c'è da sapere su un sistema solare lo potrete ricavare da quello. Il microelemento, cioè l'unità più piccola di ambientazione, il modo in cui i giocatori dovranno esplorare sarà l'astronave su cui viaggiano i giocatori che gli permette di spostarsi da pianeta a pianeta. A questo punto cominciando a dettagliare in maniera altalenante un elemento con l'altro potremmo andare a ricavare tutti gli elementi iniziali che ci servono per stendere l'ambientazione. Se i giocatori dovranno esplorare il sistema ovviamente il sistema sarà inesplorato, bisognerà dare agli giocatori qualcosa a esplorare. Abbiamo detto che ci sono vari pianeti, cominciamo a differenziare quelli l'uno dall'altro. Magari il pianeta più vicino alla stella è quello più caldo e il pianeta più lontano è quello più freddo. Torniamo all'astronave. L'astronave può atterrare sia sul pianeta caldo che sul pianeta freddo? Magari può atterrare tranquillamente sul pianeta caldo ma per atterrare sul pianeta freddo senza poi rimanere congelata a terra e non potersi più muovere avrà bisogno che venga installato qualcosa sul motore ma a questo punto ci servirà qualcuno o qualcosa che è in grado di installare componenti aggiuntivi sulla nave. Inesplorato non vuol dire disabitato, può anche darsi che su questi pianeti o su uno di questi pianeti viva una qualche razza aliena e magari questa razza aliena è ostile ai giocatori e dovranno combatterci. A questo punto ci servirà sapere sia chi sono questi alieni sia definire quali sono le armi che l'astronave dei giocatori ha per poterli combattere. Se i giocatori combattono con la loro astronave la danneggeranno quindi gli servirà un posto dove poterla attirare in secca per poter ripararla. A questo punto sembra proprio però che abbiamo bisogno all'interno di un'ambientazione di un posto dove i giocatori possano migliorare e riparare la loro astronave. Quindi diciamo di introdurre un elemento nuovo, una stazione spaziale amichevole ai giocatori o almeno inizialmente amichevole in cui loro potranno tornare in base quando ne hanno la necessità. Tutto questo genera poi ovviamente in cascata tutta un'altra serie di domande che creando la quest andremo man mano a rispondere per dettagliare meglio l'ambiente. La stazione spaziale appartiene ai giocatori o appartiene a qualcun altro? Se appartiene a qualcun altro perché questa persona ha una stazione spaziale lì? Magari è quello che paga i giocatori per esplorare il sistema? E nel caso qual è il suo interesse per far esplorare il sistema? I giocatori sono i proprietari della loro nave o ce l'hanno in affitto o hanno un mecenate che magari è lo stesso che deve far pagare loro il sistema? Perché è importante esplorare questo sistema? C'è qualcosa di utile? Ci sono delle risorse? Queste risorse devono essere sfruttate? Chi è che vuole sfruttare queste risorse? Abbiamo detto che ci sono gli alieni. Anche questi alieni sono lì? Vivono lì? Quello è il loro sistema dove ha avuto origine la loro specie? Sono anche loro degli esploratori? Hanno interesse nelle stesse risorse dei giocatori? O sono lì per tutti altri motivi? Perché sono ostili ai giocatori? magari gli alieni si comportano in quel modo perché sanno qualcosa che i giocatori non sanno ma il committente dei giocatori lo sa? Magari i giocatori sono presi in mezzo tra due fazioni che si contendono qualcosa che ai giocatori però non è stato ancora esplicitamente detto almeno inizio quest che cosa sia. Da qui potremmo andare avanti a fare domande all'infinito ma il concetto ora mi sembra che sia chiaro rispondendo alle domande e rispondendo alle domande che queste domande hanno a loro volta sollevato creeremo lo scheletro, l'ossatura di quella che sarà l'ambientazione sia per quanto riguarda la geografia sia per quanto riguarda la politica sia per quanto riguarda tutti gli altri aspetti del mondo di gioco. Ovviamente non dovete necessariamente essere voi a tirare fuori queste domande o a tirare fuori le risposte. Il gioco di ruolo è comunque un'attività collettiva, la quest si gioca tutti assieme ma nulla esclude che anche l'ambientazione venga preparata collettivamente. Tra l'altro anzi è molto utile sentire le idee dei giocatori sull'ambientazione ancora prima di cominciare a svilupparla. Dopotutto quello dovrà essere il mondo in cui loro vivono le loro avventure quindi è anche corretto che siano loro a definire quello che gli piace vivere nelle loro avventure. A questo punto non dovremo fare altro che aggiungere di volta in volta i dettagli sia sulla macro scala che sulla micro scala man mano che se ne presenta la necessità. Per esempio non sarà necessario avere una mappa geografica di tutti i pianeti del sistema potremmo sviluppare qualche luogo sulle varie superfici e poi sviluppare gli altri man mano che i giocatori proseguiranno con la loro esplorazione. Non è indispensabile averli tutti subito e anzi magari più avanti tornerà utile avere qualcosa di specifico per una singola missione. Potrebbe però essere utile concentrarsi su dettagli molto più piccoli e meno rilevanti per la storia ma che aumentino la verosimiglianza del mondo. I giocatori hanno la loro astronave? Ok, le astronavi però hanno un nome, marca e modello perché è così che funzionano le cose. Voi non guidate una macchina generica, guidate uno specifico modello di macchina. I giocatori faranno base alla stazione spaziale? Chi c'è in questa stazione spaziale? Come si lavora? Come è fatta? Come è l'ambiente interno di questa stazione? Allo stesso modo non sarà necessario avere una mappa della stazione spaziale dettagliata corridoio per corridoio, però sarà interessante avere dei dettagli sulla macroscala e sulla microscala, sulla macroscala sapere com'è organizzata questa stazione spaziale, come funziona la catena di comando, quali sono i servizi che offre e sulla microscala magari avere una lista di png, ognuno con nome e un minimo di caratterizzazione con cui i personaggi potranno parlare per ricevere altre informazioni sull'ambientazione o per sviluppare poi le varie trame. Diciamo che per questo video è tutto, ovviamente questo è solo un abbozzo di esempio, ma se dovessimo metterci a scrivere un'ambientazione dettagliata per davvero staremmo qui sei mesi ed è una lunghezza un po' troppo per quelli che sono i canoni dei video di youtube. Questo però dovrebbe darvi un'idea di qual è il processo almeno iniziale per cominciare a attiare giù un mondo di gioco. Ora però la parola sta a voi perché questo è un metodo, è il metodo che utilizzo io, non necessariamente è quello migliore per voi. Scrivetemi qua sotto nei commenti quali metodi utilizzate voi, perché li utilizzate, che cosa hanno di vantaggio e lo svantaggio rispetto a questo metodo. Come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Io sono il Master CAE, noi ci vediamo nel prossimo video.